Scusate l'ambientazione, sono in macchina, sto tornando da un viaggio. Mi è arrivata da poco la notizia che il festival Blogsfere mi dedicherà una piccola pagina, un piccolo spazio. Saluto a tutti i ragazzi che seguono il festival Blogsfere e soprattutto volevo ringraziare Alessandra, saluto, ciao. Ah, un'altra cosa, volevo fare gli auguri a tutti i ragazzi che stanno partecipando a Sanremo Social, sperando realmente che vincano i migliori, così sarebbe realmente la vittoria del Festival di Sanremo e soprattutto la vittoria della Moschia. Ciao. Adesso vademi a cuidar, tra un prossimo video, che lo amo.